Come tutti saprete, una delle più grandi ansie che vivono gli uomini relativamente al proprio corpo riguarda le dimensioni del proprio pene. Non solo per quanto riguarda la lunghezza, ma anche la larghezza e anche la forma. In generale però il focus, l'ansia principale, riguarda le dimensioni, proprio perché a livello socioculturale il membro maschile di grandi dimensioni è associato generalmente a una maggiore virilità, a una maggiore mascolinità. Ma non sembra esserci una base puramente culturale, infatti diversi studi mostrano come effettivamente anche le donne etero preferiscano pene di dimensioni medio-grandi. Vi è il dubbio però che anch'esse siano in qualche modo influenzate dalle credenze popolari. Ma appunto dove nascono queste credenze? Quali sono le potenziali ripercussioni a livello psicologico per gli uomini? Nel corso del video cercheremo di rispondere a queste domande, ma come sempre, se apprezzate i miei contenuti mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace al video e se volete ascoltate anche i miei podcast su Patreon. Troverete anche diverse testimonianze sia da parte di uomini ma anche da parte di donne. In particolare di recente ho pubblicato una testimonianza di una ragazza che mi ha raccontato le sue difficoltà sessuali con i partner ed è stato un podcast estremamente apprezzato dalla community poiché ha trattato degli argomenti come la difficoltà di gestire la sessualità in una relazione a lungo termine, argomenti che sono appunto molto comuni e che quindi possono rappresentare degli input utili per tante persone. Ma torniamo al tema del nostro video. Perché gli uomini vivono tutta quest'ansia sulle dimensioni del proprio pene? Si tratta appunto di una fisima del tutto scollegata dalla realtà? Non proprio. Come abbiamo visto anche in video precedenti dove abbiamo parlato delle preferenze fisiche delle donne riguardo il corpo degli uomini effettivamente sembra come le dimensioni del pene maschile abbiano un qualche tipo di rilevanza, costituiscano un fattore. Attenzione, non parliamo di pene giganteschi come magari vengono rappresentati spesso nei porno. Parliamo di pene che sono considerabili poco sopra la media. Che sappiamo essere, per esempio, in Italia intorno ai 13-14 centimetri ogni, diciamo, valutazione poi tende a variare perché poi non è una misura così semplice da ottenere. Anzi, per la nostra distorta percezione della realtà che deriva dal consumo di porno che riguarda più o meno tutti gli uomini potremmo considerare un pene nella media come un pene piccolo e di conseguenza sottostimare le dimensioni del nostro membro. Ma se effettivamente le donne preferiscono i peni di dimensione medio-grandi da dove nasce questa preferenza? Come mai c'è questa preferenza? Come sempre, in questi casi, le ipotesi sono sostanzialmente due. Una che si concentra principalmente sui fattori socioculturali e un'altra invece che tiene maggiormente in considerazione gli aspetti biologici evoluzionistici. L'ipotesi culturale è appunto quella che anche le donne siano a loro volta influenzate dall'immaginario pornografico. Questa ipotesi è sostenuta anche dal fatto che in passato non era necessariamente considerato virile il pene grosso. Anzi, come è possibile notare anche dalle rappresentazioni delle statue dell'antica Recia, per esempio, i guerrieri venivano rappresentati con peni piccoli considerati più eleganti, bilanciati e meno connessi alla brutalità animale. Insomma, il pene piccolo era un simbolo di evoluzione, di umanità, di intelligenza. Allora, quando il pene grosso potrebbe essere stato associato culturalmente a una maggiore virilità, a una maggiore mascolinità? Non è chiaro, ma secondo alcune interpretazioni ciò potrebbe coincidere con la diffusione di un modello patriarcale basato sulla dominanza anche sessuale dell'uomo sulla donna. In questo senso il pene grosso rappresenterebbe uno strumento di dominanza sessuale. Tutto ciò rientrerebbe dunque nella cosiddetta cultura dello stupro, ovvero tutte quelle credenze socioculturali che porterebbero a svalutare l'importanza del consenso e anche del piacere sessuale femminile. Anzi, all'interno di questo tipo di interpretazione del sesso il consenso femminile non solo non è richiesto, ma è anche per alcuni uomini poco eccitante. E questo spiegherebbe anche il perché della grande domanda relativamente a contenuti pornografici coercitivi, dove sostanzialmente la donna simula di non essere consenziente e dove comunque il suo piacere sessuale non è minimamente messo al centro della dinamica sessuale. Questa ipotesi però stride con il costrutto di mascolinità che abbiamo al giorno d'oggi, dove la soddisfazione sessuale della donna è parte integrante della virilità maschile. Cosa significa? Che un uomo con forti atteggiamenti patriarcali si sentirà tanto più mascolino quanto più riuscirà a soddisfare a letto la propria partner. Questo spiega anche perché molti uomini oggi soffrono di ansia da prestazione sessuale. Dunque la domanda è, nel costrutto di virilità e di mascolinità patriarcale, il piacere femminile è rilevante o non è rilevante? In ogni caso, tornando al tema delle dimensioni del pene, l'ipotesi evoluzionistica sostiene che le donne preferiscano peni di maggiori dimensioni poiché questi siano in grado di generare un maggiore piacere, soprattutto attraverso la stimolazione della clitoride. Insomma, si tratterebbe di una preferenza di tipo meccanico, fisico e non di una credenza psicologica culturale. Al massimo la preferenza fisica, quindi oggettiva, genererebbe poi tutta una serie di credenze socioculturali che alimenterebbero il mito del pene grosso inteso come pene mascolino e virile. Dunque la cultura sarebbe una conseguenza degli istinti biologici. Questo potrebbe spiegare anche il perché nel corso dell'evoluzione umana le dimensioni del pene maschile sembrano essere aumentate, probabilmente per un meccanismo di selezione naturale, ovvero gli uomini con peni più grossi sono stati selezionati maggiormente come partner sessuali dalle donne e di conseguenza hanno trasmesso maggiormente i propri geni riproducendosi con maggiore frequenza. Addirittura solo negli ultimi 80 anni la lunghezza del pene maschile sembra essere aumentata in media del 24%, anche se, dato l'arco temporale così breve, difficilmente ciò dipenderebbe da meccanismi di selezione. Quanto piuttosto sembra, secondo i ricercatori che si sono occupati di questi studi, che la lunghezza del pene sia in aumento per motivi legati all'inquinamento ambientale. Quindi ci sono fattori nell'ambiente che determinano un'innaturale crescita della lunghezza del pene che però potrebbe avere anche delle conseguenze tossiche sull'organismo dell'individuo. Questa ipotesi biologica, secondo cui i peni di dimensioni maggiori sarebbero maggiormente preferiti dalle donne, non è totalmente supportata a livello scientifico. Ci sono degli studi che effettivamente dimostrano come le donne abbiano una preferenza per peni di medie e grandi dimensioni, ma ci sono anche studi che sono molto scettici su questo tipo di conclusione, anzi sostengono che non ci siano prove concrete per concludere che questa preferenza femminile abbia fondamenti di tipo biologico, di tipo meccanico. Forse più che la lunghezza del pene, ciò che impatterebbe sulla stimolazione della clitoride potrebbero essere le dimensioni in larghezza del pene, proprio perché la clitoride non si trova in profondità, ma si trova in superficie. Dunque dobbiamo concludere che la preferenza per i peni di grandi dimensioni, manifestata anche da molte donne, sia solamente appunto un costrutto anch'esso culturale, dato dall'influenza del porno, dei media, delle credenze popolari? Non è detto. Infatti c'è anche un'altra ipotesi biologica che sostiene che la preferenza delle donne per peni di medie e grandi dimensioni non sia tanto dovuta alla stimolazione che questi peni hanno effettivamente sulla clitoride, quanto sul fatto che i peni di maggiori dimensioni sono associati anche a maggiori livelli di testosterone negli uomini. Questo perché sembra esserci una correlazione tra sviluppo dei genitali, soprattutto durante la pubertà, e livello di testosterone prodotto. Quindi possiamo ipotizzare che i uomini che hanno membri più grossi abbiano anche maggiori livelli di testosterone all'interno del proprio corpo e sappiamo bene come questo ormone sia in qualche modo legato all'attraenza dell'uomo. Comunque su questo non mi dilungo perché non sento di avere le competenze per raggiungere una conclusione diciamo esaustiva, anzi magari lancio la palla ai canali di biologia che parlano di questi temi. In ogni caso se l'ipotesi evoluzionistica, quindi biologica, fosse vera, come si spiegherebbe il fatto che per esempio appunto nell'antica Grecia gli uomini più mascolini venivano rappresentati con peni piccoli? Anche in questo caso possiamo fare dell'ipotesi, per esempio il fatto che in quelle società il piacere sessuale femminile non era una priorità, non era considerato e dunque la virilità dell'uomo non era in alcun modo correlata con la sua capacità di soddisfare effettivamente sessualmente le partner. Questo varrebbe anche per quelle popolazioni, per quelle tribù, dove eiaculare in tempi più brevi possibili era considerato un sintomo appunto di virilità, di mascolinità. Quando invece sappiamo bene che oggi riuscire a eiaculare il più tardi possibile per un uomo è considerato un segno di forza. Tanto che l'ansia della prestazione sessuale riguarda molto anche questo aspetto. Insomma, la questione da dove origini questa preferenza di uomini e donne per peni di medie e grandi dimensioni non è chiaro, però quello che è un dato di fatto è che effettivamente oggi è così, cioè molte donne e molti uomini hanno questo tipo di preferenza. Ciò causa un'ansia negli uomini a tal punto forte da generare delle vere e proprie ossessioni. Negli uomini infatti la dismorfofobia sul pene è piuttosto comune. Questa viene spesso definita gergalmente come una sindrome da spogliatoio proprio perché chi ne soffre ha paura a denudarsi anche di fronte ad altri uomini negli spogliatoi dopo lo sport o a maggior ragione ha paura a spogliarsi di fronte alle donne durante i rapporti sessuali. E come sappiamo ciò alimenta un business milionario fatto di prodotti che in teoria dovrebbero aiutare gli uomini ad allungare o a modificare le dimensioni del proprio pene. Da creme a integratori, ad arnesi di ogni tipo. Inutile dire che nella stragrande maggioranza di casi questo tipo di strumenti sono delle vere e proprie truffe e possono essere anche potenzialmente molto dannosi per il corpo. La loro pubblicità però è martellante e viene proposta soprattutto in quegli spazi dove è più facile intercettare quegli uomini che soffrono di ansia sulle dimensioni del pene, ovvero nei siti porno. L'unico strumento che sembra effettivamente scientificamente avere un'efficacia sull'allungamento del pene è l'intervento di chirurgia estetica che però, come sappiamo bene, ha dei costi sia da un punto di vista psicologico che da un punto di vista monetario ma anche da un punto di vista dei rischi. Il maschio tiene così tanto al proprio pene a tal punto da proiettarvi delle ansie che non hanno necessariamente a che fare con le dimensioni. Per esempio un sogno ricorrente che fanno gli uomini è quello di perdere il proprio pene di vederlo staccarsi dal proprio corpo e di riprovare ansiosamente a riattaccarlo. Il cosiddetto complesso di castrazione è una paura che, secondo i psicanalisti, sarebbe presente nei bambini fino dai due anni di età ovvero dall'inizio della cosiddetta fase fallica. In questa fase della vita il bambino si accorgerebbe che le femmine non hanno il pene e svilupperebbe l'ansia che questo sia stato reciso e di conseguenza comincia ad avere paura che anche lui possa subire lo stesso destino. In particolare per mano del padre geloso dell'interesse del figlio per la moglie. Insomma una dinamica strettamente connessa al cosiddetto complesso di Oedipo. Allo stesso modo, secondo la psicanalisi, le bambine durante questa stessa fase svilupperebbero invece un'invidia per il pene maschile. E proprio questa fase, secondo Freud, sarebbe la fase in cui si viene a strutturare la cosiddetta identità di genere. Esistono poi delle ansie, delle fobie particolari relativamente alle dimensioni e in generale al proprio pene. Una di queste prende il nome di Koro. Si tratta di una sindrome culturale diffusa principalmente nel sud dell'Asia che indica la paura di vedere retrarsi il proprio pene fino a scomparire all'interno del proprio corpo causando la morte. Questa paura nasce a partire dalle credenze culturali e dal folklore cinese. Che, come abbiamo visto anche nel video sulla semen retention, ha tutta una serie di credenze che attribuiscono al pene e al seme maschile delle energie vitali senza le quali l'uomo non può sopravvivere. Queste credenze hanno portato a una vera e propria isteria di massa documentata già a partire dagli anni Sessanta che ha causato anche tutta una serie di problemi legati alla disfunzione erettile e all'eiaculazione. Nei paesi occidentali è presente la sindrome Koro ma assume altri nomi come per esempio Genital Retraction Syndrome ma in generale rispetto al Sud Asia sembra essere meno diffusa e soprattutto meno connessa all'ansia della morte. Senza appunto arrivare a livelli estremi, a livelli fobici, è molto comune e diffusa l'ansia degli uomini riguardo alla possibilità che il proprio pene diminuisca di lunghezza o di circonferenza. E ciò è possibile ed è legato soprattutto a fattori quali l'invecchiamento o comunque altre patologie che possono andare a impattare sui livelli di testosterone. Ma il problema degli uomini, l'ansia sulle dimensioni del pene spesso non è neanche tanto basata su fattori concreti, oggettivi, quanto piuttosto alle dimensioni autopercepite. E questo porta alcuni uomini a ossessionarsi rispetto alla misurazione delle proprie dimensioni. Ci sono persone infatti che arrivano a misurarsi il pene anche più volte al giorno per la paura che questo possa appunto ridursi di dimensioni. Come abbiamo detto, il rischio principale legato all'ansia sulle dimensioni del pene è quello di castrare alcune parti, alcune componenti della propria vita, come per esempio le attività sportive o quelle sessuali. Nei casi più estremi l'ansia sulle dimensioni del pene può portare gli uomini a limitare le proprie occasioni sociali anche in quei luoghi, in quegli spazi dove il pene non è direttamente esposto. Questo perché hanno paura che qualcuno possa accorgersi delle dimensioni del loro pene anche semplicemente guardando attraverso i vestiti. Dunque questa paura rappresenta una vera e propria paranoia con la sensazione che tutti stiano guardando sempre lì tra le nostre gambe. Come si fa dunque a ridurre quest'ansia sul pene? Ovviamente il primo consiglio soprattutto nei casi più gravi è sempre quello di rivolgersi a uno psicologo perché dietro a queste ansie sul corpo potrebbero esserci altri problemi, altri traumi di cui magari non siamo nemmeno perfettamente consapevoli. Ma in generale credo che da un punto di vista psicoeducativo la cosa più importante è ricordarci che qualunque preferenza sul corpo maschile ma anche appunto sul corpo femminile è sempre e comunque una preferenza statistica. Ciò significa che per quanto magari effettivamente i peni di medio o grande dimensioni siano preferiti rispetto a quelli piccoli ciò non vale per tutte le donne e dunque ovviamente nel caso in cui noi siamo in questa categoria dobbiamo ricercare quelle partner per cui questo tipo di nostra caratteristica fisica non abbia un impatto sulla sua attrazione. Nei casi in cui le dimensioni del nostro pene sono sensibilmente sotto la media per cui generano dei problemi non solo dal punto di vista della paura di non essere apprezzati dagli altri ma possono generare dei problemi anche meccanici per noi quindi per il nostro piacere o lavoriamo sull'accettazione oppure se possibile si può intervenire anche attraverso appunto la chirurgia estetica che al contrario di quello che pensano in molti non è necessariamente in antitesi con un percorso psicologico anzi la chirurgia estetica potrebbe essere parte integrante di un percorso psicologico di accettazione ovviamente da questi casi vanno esclusi coloro che soffrono di una grave dismorfofobia per cui l'intervento chirurgico estetico non andrebbe a risolvere effettivamente il problema ma rischia addirittura di aggravarlo infine come ho detto anche nel video sulla verginità maschile l'ansia sulle dimensioni del pene dipende anche da una scarsa sensibilizzazione su questo tipo di paura infatti lo stigma sociale si crea proprio dai tabù ovvero da quei temi che si ha paura ad affrontare si ha paura a condividere mentre nel momento in cui sempre più persone riescono a parlarne apertamente a confessare questo loro limite questa loro paura ecco che automaticamente lo stigma sociale si riduce forse non si annulla del tutto soprattutto se questa preferenza per determinate dimensioni ha delle basi biologiche evoluzionistiche però si riduce a tal punto da permettere quanto meno alle persone che hanno questa sofferenza questo disagio quest'ansia di parlarne con amici parenti oppure di chiedere aiuto a un professionista sanitario può sembrare una banalità può sembrare poco ma in realtà a volte fa la differenza tra una vita sana degna di essere vissuta diciamo così e una vita invece che porta all'autodistruzione all'autosabotaggio come sempre quando decido di trattare questi temi lo faccio anche non solo per portarvi delle informazioni che spero possano esservi utili ma anche per raccogliere delle esperienze delle testimonianze qui sotto nei commenti quindi se avete qualcosa da dire sull'argomento se avete vissuto in prima persona queste ansie sul pene e volete raccontarlo a me fa solo che piacere grazie come sempre per il supporto appunto ripeto se volete approfondire iscrivetevi anche a Patreon noi ci vediamo alla prossima grazie ancora grazie a tutti